A Fano nasce la Federazione della Sinistra, il nuovo soggetto politico che riunisce anche in un unico simbolo rifondazione comunista i comunisti italiani, è stato illustrato nella mattinata di oggi nella Casa della Sinistra. Presenti i vertici locali e provinciali delle due formazioni politiche, nel ruolo di coordinatori i fanesi Pino Panaioli e Teodosio Spici. Da Roberto Ciaschini, segretario provinciale di rifondazione comunista, l'augurio che il modello fanese sia esportabile su scala provinciale. La nascita della Federazione della Sinistra non mette in discussione l'esperienza fanese di Sinistra Unita, presentata come qualcosa di più, visto che aggrega anche se è lei verdi. La prima, la Federazione della Sinistra, è un soggetto politico nazionale, la seconda, Sinistra Unita, è un'esperienza locale. Sui rapporti con il PD, le rassicurazioni del segretario provinciale Marco Marchetti sulle intenzioni del suo partito di lavorare a Fano per un'alleanza di centrosinistra tradizionale non sembrano convincere fino in fondo la Federazione. Non mi fido più di tanto di Marchetti, ha sottolineato Ciaschini. Non possiamo escludere sorprese in corso d'opera. Fidarsi, ha detto ancora Ciaschini, è bene, non fidarsi è meglio. Secondo Walter Adanti, leader storico di rifondazione comunista, nel tentativo di inciucio PD-PDL potrebbe esserci lo zampino del segretario regionale del Partito Democratico, Ucchielli. Mentre il segretario dei comunisti italiani, Alvaro Piccinetti, ha ricordato che il modello Marche non è partito da Ancona, ma da Pesaro. Se il PD ha concluso infine Adanti smette di essere la rappresentanza della Sinistra, la Federazione è pronta a svolgere quel ruolo. Grazie a tutti.